Situazione difficile di Bitcoin, delle cripto in questo inizio della settimana, dopo qualche giorno di debolezza, ragazzi, proprio nel momento di svolta, proprio sul punto più importante dove Bitcoin doveva dimostrare forza, ma guarda un po', gira al ribasso. Questa è la candela mensile che sta andando a chiudere proprio per il mese di febbraio, che chiude in pratica domani, questa è una candela di riflessione molto particolare, è l'argomento del video di oggi perché andremo a parlare di questa candela, che cosa è in termini di candlestick e soprattutto come va interpretata, quali sono le eventuali problematiche che potrebbero verificarsi se nel mese di marzo alcune cose dovessero andare veramente storte. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, io anche in questo video, a prescindere da questa fase, diciamo che poi non è proprio ribassista di Bitcoin, è un po' un'oscillazione tendenzialmente paurosa, la identificerei in questo modo. Ragazzi, io il Bitcoin lo lancio anche oggi, vediamo un po' che cosa avviene e ancora una volta long, ragazzi, è la quarta volta su quattro che Bitcoin ci dà l'esito e il log, o non funziona più oppure non lo so, vabbè. Allora, io vi ho detto il lancio del Bitcoin, vediamo se funzionerà per il mese di marzo, andiamo quindi ad analizzare un po' questo grafico della candela di febbraio, facciamo una serie di considerazioni importantissime su questa candela e poi andiamo a vedere anche il ciclo mensile di Bitcoin, che cosa sta facendo, quindi un po' per avere una lente di ingrandimento su quella che era la fase più breve del mercato. Però, prima di andare avanti, partiamo da quelli che sono eventualmente anche le news di questa settimana in termini di analisi dei dati. A proposito, domani, ragazzi, ci sarà una super live sul canale, perché Marco Casario viene da noi, quindi verrà ospitato, quindi faremo una super live alle ore 18, non mancate, sto per preparare la copertina e si va via con il liscio. Proprio lì guarderemo quelli che sono i dati macro, analisi sui mercati old, come possono impattare delle politiche della Fed anche nei prossimi mesi, quindi stratosferica live domani sul canale Trading On, non mancate, ragazzi. Allora, andiamo a vedere quelli che sono i dati sulla questione di questa settimana. Già, vi anticipo che non ci sono, secondo me, dei dati estremamente rilevanti da prendere in considerazione. Il dato comunque incredibile di oggi, i contratti pendenti di vendita sulle abitazioni, più 8, cioè ragazzi, vabbè, è un solo mese, quindi ci può stare, comunque ancora, il mercato immobiliare dovrebbe iniziare, anzi, ha iniziato a essere un po' debole, no? E questo è proprio il minimo, cioè il fatto che debba essere debole il mercato immobiliare con un rialzo dei tassi così importante, insomma, dovrebbe essere assolutamente il minimo. Vabbè, detto questo, passiamo alla... domani ci sarà il rapporto sulla fedice dei consumatori, che è interessante andare a vedere per la questione legata alla recessione. L'ISM, stessa identica cosa, nella giornata di mercoledì, e poi l'IPC annuale dell'Europa, che è sostanzialmente rilevante, e poi giovedì, sempre richiesta di sussidi di disoccupazione, forse l'unico dato che potrebbe in effetti un po' smuovere le acque, se questi sussidi di disoccupazione saranno decisamente fuori dal previsto, che come vedete qui, ragazzi, sono in pratica identici. Cioè, in pratica, tasto di disoccupazione fermo è quello che è previsto, quindi se dovessero crescere moltissimo sarebbe un dato teoricamente positivo, lo so, e per questa fase è al contrario, diciamo, quindi funziona in questo modo. Va bene, detto questo, passiamo all'analisi del super grafico di oggi, che andiamo a guardare quello che è l'analisi del mese di febbraio. Allora ragazzi, intanto è abbastanza evidente che il mese di febbraio, in termini di oscillazione e di volatilità, ha prodotto un'oscillazione veramente molto bassa, intorno al 17-18%, questa zona qui, di volatilità all'interno del mese, che è molto bassa per Bitcoin. Quindi è un mese a bassa volatilità, anche se è stato un mese di zigzag, cioè un mese in cui il mercato ha sostanzialmente aperto, è andato down, ha fatto un minimo, poi è salito, ha fatto un massimo ed è ritornato identico al prezzo di chiusura, di apertura, quindi prezzo di chiusura e prezzo di apertura sostanzialmente stabili ragazzi, perché il mercato aveva aperto a 23.134, utilizzando i dati di Bitstamp, sta chiudendo a 23.134, chiude ovviamente alla fine del mese, quindi domani c'è ancora una giornata, ma insomma se dovesse chiudere così, la configurazione di questa candela, a meno di impennate, insomma a 24-25.000, insomma queste zone qui nell'arco di una giornata, in questo caso ragazzi sta creando una figura di candlestick, di analisi tecnica che si chiama una evening star, oppure una doji evening star, è una miscuglio in pratica di quello che è concettualmente una candela di riflessione, non è propriamente una doji che è una candela peggiore, sembra più una evening star, cioè sembra più una candela che potrebbe essere messa alla fine di un rimbalzo, quindi identificherebbe questa fase come un rimbalzo e poi uno stop del rimbalzo. Che cosa sostanzialmente ci dice questa candela ragazzi? Che il breakout di uno dei due livelli di massimo di questa candela mensile sancirà la configurazione di continuazione di un trend o inversione di un trend, perché le evening star o le doji in generale ci danno un segnale molto forte, considerando che stiamo guardando un grafico su un time frame mensile, non vi dimenticate che un eventuale conferma di questo pattern impatterebbe probabilmente per almeno 5-6 mesi, quindi non è una cosa da sottovalutare, il breakout dei minimi della candela di febbraio 21.376 per quanto riguarda i prezzi di Bitstamp, ma più o meno 21.000 e qualcosa, cioè questo livello indicherebbe in pratica un opener magari del mese di marzo, poi una bella candelora rossa che brecca questi livelli e se ci chiude sotto in pratica configura un'inversione di trend che potrebbe continuare nei prossimi mesi. A quel punto anche l'eventuale touch dei minimi relativi a questa fase del bear market di Bitcoin potrebbero essere valutati. Non è però un atteggiamento così tanto scontato del mercato, perché questo pattern è un pattern di indecisione, cioè quello che ci sta dicendo il mercato è perché ho trovato dei livelli di resistenza molto forti e in questo momento ho preferito tirare i remi in barca e riflettere sul mio operato. Ecco, ve l'ho tradotto in linguaggio da mercato ragazzi, un po' alla stile insomma di una, di una, un stile robotico, un chat GPT diciamo da traduzione, però è proprio questo il senso di questo tipo di pattern, quindi la dobbiamo ragionare in questo modo, è una pattern che ci dice, una candela che ci dice sono indeciso, non so se voglio continuare a salire perché in pratica il rialzo al di sopra di questo livello, dei 25-26 di questa zona, sancisce al 100% la fine di questo bear market così come l'abbiamo identificato e poi una fase nuova e quindi in pratica è anche una responsabilità per il mercato, quindi una volta che il mercato arriva qui dichiara in pratica che il precedente bear market non esiste più, poi magari ne fa un altro, questo è sempre possibile, però in soltanto si assume la responsabilità che questa fase rialzista la può continuare anche nell'arco dei prossimi mesi, perciò la riflessione di Bitcoin su questi livelli di prezzo ci può stare, mi sarei aspettato, non vi nascondo ragazzi, una candela leggermente più verde, cioè con un corpo leggermente più verde, quindi una close di Bitcoin intorno ai 24-24002, sarebbe stato decisamente più impattante perché magari dava slancio all'opening della candela di marzo per provare il famoso breakout del mese dei 25.026 nel mese appunto di marzo. Nulla vieta che lo possa fare tra oggi e domani, ancora manca un giorno e fare mille punti insomma per Bitcoin, mille dollari per Bitcoin non è una gran cosa alla fine, ci riesce anche in pochissime ore, però c'è da dire questa cosa. Vi faccio però vedere un confronto fra questo atteggiamento del mese di febbraio e quello che è stato uno dei precedenti bear market, cioè quello del 2017. Se andiamo a includere diciamo quella che è una struttura di trendline che non mi piace utilizzarle in questo caso, anzi facciamo così, così eliminiamo il problema, esatto, ve la configuro in pratica senza il logaritmo in modo tale da andare a ragionare in termini propriamente corretti per una trendline, quindi una question, una struttura lineare ragazzi, il logaritmo non si può usare su una trendline, anche è vero che sono pochi mesi, però diciamo non sono pochissimi dal dire nonno, ne tengo conto quindi, perché bisognerebbe utilizzare una curva, non una retta in quel caso. Nel momento in cui andiamo a guardare questo precedente bear market, si evince, che anche nel precedente fase di rimbalzo ragazzi, il mese prima del breakout era stato a bassa volatilità, cioè un mese che in sostanza aveva dato un più 8, ma era tra un minimo e la zona del massimo intorno al 12% circa, insomma dovrebbe essere più o meno, esatto, più o meno 12-13%, quindi un mese a bassa volatilità tra le altre cose, incluso anche nel precedente, nella precedente candela, perché la shadow era più ampia. C'è da dire che questo livello era già stato segnato, vedete, come un livello di resistenza molto rilevante, che il mercato aveva provato, erano 4200 dollari, aveva provato sia nel mese di gennaio 2019, sia nel mese di febbraio 2019, e sia nel mese di marzo 2019, a breccare non c'era mai riuscito. Qui addirittura era andato poi di nuovo a scendere, qui aveva provato, non c'era riuscito, qui aveva provato, non c'era riuscito, quindi dopo tre mesi riesce a breccare, facendo poi che cosa ragazzi? Un super pump in termini anche di volatilità, perché qui ce ne andiamo a 27-28 punti per cento. Quindi, cosa significa? Cosa vi sto facendo vedere? Adesso ritorniamo più o meno alla questione di oggi. Vi sto facendo vedere l'idea che questa struttura, così come è stata creata, non preclude a Bitcoin il concetto che questa fase possa essere diciamo breccata poi successivamente e a quel punto ecco lo metto corretto, diciamo, e a quel punto vedete, questo livello di resistenza potrebbe essere breccata a quel punto San Chile, il famoso pump rilevante di anche il 20-30%, cioè cosa indicherebbe? Che un rialzo in questa zona 5-26.000 è qualcosa potrebbe provocare in sostanza quello che identifichiamo come un pump in zona più o meno 30.000, ok? Perché potrebbe tranquillamente farlo se effettivamente nel mese di marzo si va a configurare questa storia, magari dopo una fase di opening e poi va boom e quindi ci crea in pratica esattamente quello che aveva fatto già nel precedente bear market quando aveva invertito più o meno la struttura del trend. Io non uso molto le trend line, chi mi conosce lo sa, ne parlo anche nei miei corsi di formazione dove ho spiegato mille volte perché sui mercati in generale non è che funzionano tanto bene, quindi si possono utilizzare molto meglio nel trading intraday o multiday di pochi giorni, ma nei grafici di lungo periodo come si suol dire assolutamente no per tanti motivi ragazzi che ovviamente non vi tedio lo spiegate anche nel corso in maniera molto precisa. Quindi in sostanza il mese di febbraio è un mese di indecisione che però non lascia non ci lascia in pratica un amaro in bocca così elevato perché dice che ancora noi possiamo andare poi nel mese di marzo a ritentare quel famoso test e quindi un mese a bassa volatilità prima magari di un'eventuale fase di verkraft ci può stare alla grande perché ragazzi è come il concetto della molla che si comprime ne ho parlato tante tante volte di questa cosa nel canale e lo ripeto una molla che si comprime cioè la bassa volatilità poi che va boom esplode quando si alza quindi la volatilità nel mercato che è l'indicatore più importante di tutti ragazzi quindi se dovessi darvi un consiglio quale indicatore studiare la volatilità che è un indicatore matematico statistico di natura del mercato quindi no quindi l'indicatore più importante di tutti e insomma quello che ci dà questa informazione quindi per operare anche nel mese di marzo ragazzi la soluzione migliore sarà operare sui cicli più piccoli di bitcoin e intorno a quelli settimanali i cicli settimanali che sono cicli da circa otto giorni ci vogliono i trader per fare questa cosa purtroppo lo so che non è facile darvi alcune informazioni anche per holder però se dovessi essere sincero come vi ho spiegato nel precedente video per tutto il 2023 l'holder deve comprare basso in pratica e attendere quindi anche questa fase di minimo intorno ai 21 e qualcosa o un rientro diciamo intorno ai 22 22 e 3 nel mese di marzo potrebbe essere un buy and hold per un holder magari e attendere poi perché ragazzi cosa succede se si brecca il minimo di febbraio è rischiosissimo quindi sotto i 21 diventa estremamente rischioso soprattutto in chiusura mensile a quel punto l'holder potrebbe decidere di chiudere le proprie posizioni ma avrebbe perso veramente pochissimo quindi in sostanza per gli holder c'è poco da fare in questo mercato che è un mercato prettamente da trader probabilmente nell'anno 2023 andiamo a vedere questa che è invece la fase e questo grafico è stato il primo di cui abbiamo parlato nell'anno 2023 uno di quei video che faccio all'inizio dove scriviamo tutto l'anno quello che ci dobbiamo attendere guardate è qui allora in questo momento questa candela sta facendo il suo verde e ci sta pericolosissima perché non ha mai fatto una shadow ribassista e io non ricordi un mese un anno senza shadow ribassista di bitcoin cioè questa qui ma ce l'aveva comunque la shadow che poi ha fatto insomma numeri stellari in 2013 ma tutte hanno una shadow ribassista questa non è una shadow ribassista vabbè allora questa cosa non mi nascondo che mi fa una paura che mi fa tremare ragazzi perché il mercato ha aperto il solo salito e non è una cosa buona doveva scendere un pochino almeno però è vero che eravamo scesi proprio tantissimo sono almeno 64 questa struttura di ribassi ci poteva stare poi si scendeva anche dall'anno prima quindi dai massimi dell'anno precedente ci può stare però rischiosissimo fatto sta che comunque come vedete siamo ancora all'interno della famosa zona resistenza supporto di cui abbiamo parlato all'inizio dell'anno va bene allora detto questo facciamo adesso un ci spostiamo su quelli che sono le analisi di breve quindi un leggero recap del ciclo mensile quello che stiamo vedendo vi faccio anche capire quello che sta succedendo probabilmente è un nuovo ciclo settimanale che è iniziato da poco ma debole insomma sembra di bitcoin e poi andiamo a concludere quello che è questo video allora un velocissimo e leggero recap ragazzi del ciclo mensile il ciclo mensile di bitcoin è iniziato il 13 di febbraio rialzista al momento ma un po' non esplosivo non è debole comunque perché è un ciclo che dai minimi in questo caso all'attuale fase di chiusura è a più 9,60 quindi debole non è però non è esplosivo quindi è un ciclo di barra di congestione in questo momento direi rialzista laterale quindi non esplosivo è probabile che sul minimo che abbiamo visto il 12 si stia chiudendo una struttura da due settimane e quindi è un po' corto devo essere sincero tant'è vero che questa fase di candela è un po' pericolosetta perché in teoria questi cicli possono arrivare anche a 18 16 18 quindi possono arrivare in pratica anche a mercoledì nulla vieta bitcoin domani dopo domani di fare appunto un minimo in questa zona che potrebbe essere anche migliore da un punto di vista di breve periodo e perché no magari indicare anche un leggero buy in quella zona ma a livello chiaramente da trader se non che come sempre bitcoin camuffa le carte e come un po' è dalla domenica iniziato questa fase di rimbalzo quindi da sabato ha fatto il minimo e poi rimbalzo quindi nel weekend tra le altre cose quindi roba veramente di poco conto però intanto è così e perciò ragazzi è possibile anche che sia tutto iniziato qui i cicli inferiori sono molto complessi e vanno saputi tradare quindi si possono affrontare solo esclusivamente con preparazione da trader abbastanza evoluta quindi non fate operazioni di trading intraday se non avete formazione adeguata nei mercati ragazzi va bene perché si rischia alla grande tra le altre cose su questo minimo del 13 febbraio è iniziato non solo un mensile ma probabilmente anche un ciclo trimestrale di bitcoin ora il ciclo trimestrale di bitcoin ciclo da tre mesi circa che dura più o meno 80-90 giorni sostanzialmente è forte al rialzo quindi nulla vieta che dopo la chiusura di questa fase a fine mese esattamente il mercato tenti appunto quel famoso breakout di marzo anzi se io dovessi essere sincero ragazzi fin tanto che reggono i 21.000 dollari di bitcoin io continuerò ad essere sempre un po' pro long in questo caso perché perché siamo a favore del ciclo trimestrale di bitcoin che potrebbe anche essere il secondo di un annuale nuovo quindi la questione c'è poco da discutere in sostanza la position in questo momento quella più corretta è ovviamente tentare le fasi di long e poi è chiaro se il mercato invece ha un po' mischiato le carte ci prenderà l'altro vista a quel punto prendiamo un leggero stop o altro ma già il gain è stato fatto da questi rialzi ragazzi basta e avanza per gestire le interre posizioni di tutto l'anno almeno per quanto mi riguarda perciò io continuerò con questa idea generale cioè i ribassi di bitcoin possono essere delle dip in questa fase poi dove cambia da fine marzo in poi qualcosina cambia ma per questo ne parleremo nei prossimi video va bene allora vi ho spiegato tutto quello che c'è da attenderci e fatemi sapere anche voi cosa ne pensate questo mese di febbraio a ridotta volatilità sancisce la fine di questo movimento rialzista oppure è una molla compressa che ci darà il pump poi a marzo fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti ciao a tutti